La moglie è il figlio Francesco che è stato in Messico, io sono il cognato, c'è fortuna la sorella di Raffaele Russo e Cimmino. Ma la famiglia di Cimmino, tre o quattro, è la famiglia di Cimmino. Giusto per dire delle cose utili, diciamo. No, no, noi non ci andiamo nulla, sono i famigliani. Certamente, ce l'hanno dietro. No, no, noi cominciamo a spostarsi di là così non lo chiamiamo. No, noi cominciamo a spostarsi di là così non lo chiamiamo. In questo caso non lo chiamiamo a spostarsi di là, perché non lo chiamiamo. No, non è un attimo. No, non è un attimo. Ma la stampa è una cosa. Stava arrivando Francesco. No, no, non è un attimo. Dov'è che va subito? Voglio passare il loro Francesco. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.